Iveco Check Stop Assemblea FAI a Parma Intervista Paolo G Betoniera Cifa Energia 9 Bentrovati, nella prima notizia di oggi parliamo di Iveco che si prende cura della sicurezza degli autotrasportatori e dei loro mezzi. E' proprio questo in sintesi il messaggio della campagna Iveco Check Stop l'iniziativa che a partire dal 10 giugno a Torino per 5 tappe distribuite su tutto il territorio nazionale offrirà un servizio gratuito di controllo sullo stato di vigilanza, sonnolenza e fatica dell'autista e anche di verifica delle funzionalità primarie del veicolo. I prossimi check up saranno a Verona al Quadrante Europa dal 23 al 27 giugno. E parliamo ancora dell'Assemblea Generale FAI che si è svolta domenica scorsa a Parma presso il Grand Hotel della Ville dove abbiamo trovato particolarmente interessante una parte del dibattito di Pasquale Russo segretario generale di FAI. Ascoltiamolo insieme. Così come sta avvenendo anche da parte di altri paesi europei è necessario che si arrivi ad una omogeneizzazione dei costi. Sappiamo che l'omogeneizzazione dei costi oggi non è possibile per le competenze che la Commissione europea ha che non sono competenze relative alla fiscalità. Ma sappiamo anche, questa è una proposta che abbiamo lanciato proprio nel convegno di Corfu Commercio il 14 di marcio, sappiamo anche che è possibile fare quello che è stato fatto in altri paesi, cioè l'istituzione di un registro europeo delle imprese di trasporto così come è stato fatto il registro europeo degli armatori. Perché il registro europeo? Perché il registro europeo può arrivare proprio per un singolo settore di cui si considera la specifica esigenza che è caratterizzata da una forte mobilità di impresa, un registro europeo che consenta di turi tutte le imprese di trasporto in Europa ad un determinato regime. E ora passiamo all'intervista che Carlo Otto Brambilla ha realizzato a Parma domenica scorsa con Paolo Uge, presidente FAI. Siamo con Paolo Uge, presidente di FAI e oggi durante l'Assemblea Generale di FAI sono emersi numeri dati piuttosto interessanti, anche inquietanti direi. 30 milioni di TEU arrivano in Italia, 10 milioni di TEU, che sono i container standard per chi non lo sapesse, vengono lavorati in Italia. Ricordo solo che trasporti e logistica nel mercato italiano valgono circa 220 miliardi di euro. Ma questa differenza di 20 milioni di TEU? Questa differenza è dovuta al fatto che i nostri porti non sono in grado di accogliere le merci, non sono in grado di lavorarle in tempi europei. Se pensiamo che un container impiega 18 giorni per uscire da un porto italiano, mentre ne impiega a livello europeo 8-11 giorni, abbiamo già una prima dimostrazione. Facendo un calcolo economico, 30 milioni di TEU, meno 10 milioni di TEU che sono quelli effettivamente lavorati, vuol dire 20 milioni di TEU, vuol dire 10 milioni di container. 1200 euro container, basta fare una semplice moltiplicazione per rendersi conto di quanto il sistema paese perde su questa incapacità a voler realizzare interventi utili all'economia. Sì, in posti di lavoro e in necessità di trasporto e logistica diventano quasi milioni di persone. Sicuramente perché noi dobbiamo pensare che esiste un indotto dietro all'attività di un container, va sbarcato, va aperto, va lavorato la merce che IVI contiene, quindi voglio dire l'effetto moltiplicatore è quasi pari a 1-200. Quindi pensiamo un attimo a un paese che ha problemi occupazionali come il nostro, abbiamo avuto una riduzione ancora quest'anno dello 0,8% dei livelli occupazionali. Che cosa vorrebbe dire? Allora un governo che vuole produrre, che vuole far crescere il paese, che vuole farlo rendere competitivo, può intervenire su questo? Sì, come? Semplificando. Non è possibile che 18 enti effettuino 64 tipi di controllo sui container. Un grazie al dottor Paolo G. Parliamo di un modo nuovo di fare cemento, è il caso di dire quasi in silenzio, esattamente ben 10 decibel in meno di una betoniera tradizionale. Il tamburo infatti è mosso da un motore elettrico invece che dall'impianto idraulico, mentre il motore a induzione è alimentato da una batteria agli ioni di litio che può essere ricaricata con tecnologia plug-in, semplicemente connettendola alla rete elettrica. I tempi di ricarica sono veloci e a questa contribuisce anche il sistema da F1 CARS, Kinetic Energy Recovery System, sistema di recupero dell'energia cinetica che recupera appunto l'energia nelle fasi di decelerazione del camion, trasferendola ad una presa di forza e da qui al generatore elettrico. Insomma, sicuramente qualcosa di futuristico ma che è estremamente interessante per la riduzione dell'inquinamento e della rumorosità. E nell'ultima notizia di oggi vi ricordo che la rivista di trasporto commerciale vi aspetta in edicola con interessanti articoli. Inoltre non dimenticate di scaricare gratuitamente Blinkar, l'applicazione che vi permette di vivere l'esperienza della realtà aumentata su tutte le nostre riviste. E questa era l'ultima notizia di oggi, appuntamento con una nuova edizione di Tracking News sempre su questo canale martedì prossimo. Vi aspettiamo, grazie, arrivederci. Grazie a tutti. Grazie a tutti.